Ben trovati ragazzi, continuiamo il nostro racconto della rivoluzione francese, siamo diciamo alla terza fase della rivoluzione francese, possiamo dire alla terza puntata, eravamo arrivati se vi ricordate alle elezioni dell'autunno del 1791 in cui era stata eletta l'assemblea legislativa. Vi ricordate, eccola qua l'assemblea legislativa che era stata eletta a suffraggio ristretto, però poco prima, qualche mese prima dell'elezione dell'assemblea legislativa c'era stato un evento che aveva fatto preoccupare i francesi perché nell'agosto del 1791 l'imperatore d'Austria e il re di Prussia avevano sottoscritto la cosiddetta dichiarazione di Pirmus. Che cos'è questa dichiarazione di Pirmus? Praticamente i due regnanti preoccupati dagli eventi francesi e soprattutto temendo il contagio rivoluzionario, cioè temendo che le idee della rivoluzione potessero propagarsi anche in Europa, avevano firmato questa dichiarazione in cui si impegnavano anche con una guerra a riportare il re francese nell'esercizio delle sue funzioni e quindi a intervenire qualora appunto gli eventi francesi diciamo precipitassero. Questa dichiarazione di Pirmus crea grande fermento in Francia e soprattutto si discute all'interno dell'assemblea legislativa. Vi ricordate che a destra, ve lo faccio rivedere, stavano i foglianti di Lafayette e a sinistra invece stavano i Giacobini, i Cordiglieri e i Girondini. Allora, le forze di destra, i foglianti, volevano una guerra, cioè volevano che la Francia si impegnasse in una guerra contro queste potenze straniere perché secondo loro questo avrebbe rafforzato la rivoluzione. Invece i Giacobini e i Cordiglieri erano contrari, erano contrari perché pensavano che dato che la Francia stava vivendo una situazione molto delicata pensavano che l'esercito francese non fosse preparato ad affrontare una guerra contro delle potenze straniere. In mezzo a questi due litiganti c'era il re che invece voleva la guerra per motivi suoi personali che voi già immaginerete, cioè il re sperava che in questo modo le forze rivoluzionarie sarebbero state sconfitte e lui sarebbe tornato nell'esercizio delle sue funzioni. Comunque alla fine prevale l'opinione del re e anche quella dei foglianti e quindi nell'aprile del 1792 la Francia dichiara guerra all'Austria e alla Prussia. Però avevano ragione i Giacobini, cioè la Francia affronta questa guerra con un esercito malamente equipaggiato, non preparato per cui non fa altro che subire una sconfitta dopo l'altra. E in questa situazione abbastanza difficile il re mantiene un atteggiamento ambiguo, nel senso che per esempio si rifiuta di garantire la sicurezza al territorio nazionale. E allora il popolo, soprattutto i sanculotti, ve li faccio vedere, eccoli qua, gli sono ostili e temono appunto che il re possa compluzzare con i controrivoluzionari. Ecco questo è un sanculotto, noi sappiamo che dalla parte dei sanculotti stavano i Giacobini, perché si chiamava sanculotto, naturalmente vedete è un popolano, si chiamava sanculotto perché portava i pantaloni larghi, cosiddette culotte, i pantaloni larghi che per noi sono normali, ma che erano diversi dai pantaloni stretti che allora portavano gli aristocratici. Va bene? Quindi i sanculotti il 20 giugno del 1792 organizzano una grande protesta, si recano al palazzo reale delle Tulleri e addirittura costringono il re a indossare il berretto frigio, che era il berretto dei rivoluzionari. Insomma il re spaventato indossa questo berretto e il popolo riesce a umiliarlo, prenderlo in giro, sbeffeggiarlo. Comunque la guerra si inasprisce, si fa sempre più difficile e il sospetto della condivenza del re è sempre più forte e allora la situazione esplode. Il 10 agosto scoppia a Parigi una rivoluzione popolare che porta alla creazione della comune di Parigi. La comune di Parigi è un governo provvisorio formato dai sanculotti che decide la sospensione del re che viene stavolta imprigionato in un carcere di Parigi insieme alla moglie e si decide la nascita di una nuova assemblea, quindi l'assemblea legislativa viene sciolta e si decide di eleggere questa volta a suffraggio universale un nuovo parlamento, una nuova assemblea che si chiamerà convenzione nazionale. Quindi stavolta votano pure i popolani, cioè non c'è suffraggio ristretto ma c'è suffraggio universale naturalmente maschile perché per le donne non se ne parlava di diritto al voto. Allora, cosa succede? Allora, il 21 settembre si insedia questa convenzione nazionale eletta a suffraggio universale maschile. Il giorno prima, il 20 settembre, l'esercito francese aveva riportato una prima vittoria su quello austro-prussiano a Valmy e questa è una vittoria molto importante perché riesce a risollevare il morale alle truppe francesi e anche al popolo francese. Il giorno dopo, ripeto, si insedia la convenzione nazionale che abolisce la monarchia e proclama la Repubblica. Allora, vi faccio vedere com'era... ecco, questa è l'esecuzione del re a cui ora arriveremo. Intanto vi faccio vedere com'è formata questa convenzione nazionale. Allora, stavolta abbiamo 749 deputati, sempre al centro ci sono i deputati del centro cioè che non stanno né con i conservatori né con i rivoluzionari e appunto questi stavano al centro, in basso, tanto che erano i deputati della pianura o della palude e costituivano la maggioranza. A sinistra abbiamo, come sapete, appunto i progressisti, i rivoluzionari ed erano 200 deputati chiamati della montagna perché stavano in alto a sinistra in questa convenzione ed erano giacobini e cordiglieri, va bene. A destra erano passati i girondini. I foglianti, diciamo, che erano scomparsi. Ecco, i girondini che, se vi ricordate, erano nati da una costola dei giacobini però già allora erano, diciamo, dei repubblicani moderati adesso stanno a destra, quindi sono, diciamo, per la conservazione e sono appunto 160 deputati, va bene. E saranno quelli che, almeno all'inizio, guideranno la convenzione nazionale. Bene, si pone il problema di cosa fare del re. E allora, i girondini non lo vorrebbero condannare a morte e, come sapete, sono i più moderati, stanno a destra. Invece, a sinistra, i giacobini vorrebbero la condanna a morte del re anche perché stanno con i sanculotti, no? E il popolo francese gridava a gran voce che il re era un traditore. Alla fine prevalgono i giacobini, ma anche perché nel palazzo delle Tulleri vengono scoperte delle lettere del re e dei suoi emissari, praticamente. Lettere che il re mandava ai governi controrivoluzionari d'Europa e anche ai nobili controrivoluzionari francesi che erano scappati all'estero. E quindi ci sono le prove del tradimento del re. Per cui Luigi XVI viene processato dalla stessa convenzione, viene condannato a morte per alto tradimento perché, ripeto, ci sono le prove provate e viene ghiottinato il 21 gennaio del 1793. E qui abbiamo un'immagine, vedete? La testa del re mozzata viene mostrata al popolo. E questa è la fine del re. Nell'ottobre dello stesso anno verrà poi ghiottinata la moglie Maria Antonietta. Bene, vi ho fatto vedere com'era formata la convenzione. Andiamo avanti. Allora, l'esecuzione di Luigi XVI naturalmente suscita molta angoscia in Europa. E quindi a questo punto non sono solo l'Austria e la Prussia a combattere contro la Francia. Nasce una prima coalizione antifrancese, cioè di tutte le potenze straniere europee che, diciamo, si alleano per fermare questa rivoluzione francese, questo delirio francese. E allora questa coalizione antifrancese comprende l'Austria, la Prussia, la Gran Bretagna, le Provincie Unite, c'è l'Olanda, la Spagna, il Portogallo, il Regno di Napoli e il Regno di Sardegna. E naturalmente l'esercito francese inizialmente è in difficoltà, anche perché adesso è la Francia contro gran parte dei paesi europei. E allora la convenzione organizza una leva forzata di 30.000 uomini e in questo modo almeno riesce a impedire che le forze antifrancesi possano invadere la Francia. Però la situazione, siamo adesso nel 1993, la situazione in Francia è molto difficile. E' molto difficile, è veramente ingovernabile, perché nella primavera del 1793 è veramente ingovernabile anche perché comunque l'esercito francese riporta delle sconfitte combattendo contro la prima coalizione. E allora nella primavera del 1793 in una regione contadina, la Vandea, scoppia una controrivoluzione. I contadini della Vandea si ribellano, intanto perché appunto la leva forzata interessa anche loro e quindi si rifiutano di andare a combattere. E poi perché questa è una regione molto conservatrice, molto religiosa e quindi difendono la Chiesa e soprattutto i preti refrattari. Infatti questa rivolta è organizzata al grido Dio e il re. E quindi questa rivolta praticamente, come vedete in questa cartina, questa rivolta, allora l'esercito francese che è già impegnato nella guerra all'estero, stenta a domare questa rivolta che rischia di diffondersi in tutta la Francia e di trasformarsi in una guerra civile. Nello stesso tempo, appunto, quindi c'è questa guerra civile creata appunto dalla rivolta della Vandea, c'è, ci sono le difficoltà dell'esercito francese contro la coalizione antifrancese e poi c'è un aumento dei prezzi vertiginoso. Per cui il popolo, soprattutto i sanculotti, chiedono delle misure contro l'aumento dei prezzi. A questo punto abbiamo detto che fino a quel momento la convenzione era controllata dai girondini. A questo punto i giacobini prendono in mano la situazione, cioè si alleano con i deputati della palude che avete visto che erano la maggioranza e quindi in questo modo ottengono la maggioranza, i giacobini, e mettono in minoranza i girondini e prendono quindi le redini della situazione. Subito viene introdotto un calmiere dipartimentale perché è un calmiere dei prezzi, però dipartimentale perché sapete che la Francia era divisa in dipartimenti, quindi questo calmiere veniva applicato in base alla situazione di ogni dipartimento. Comunque è un calmiere dei prezzi per le farine e i cereali. Poi i giacobini creano un comitato di salute pubblica che assume il potere esecutivo e il potere legislativo e un tribunale rivoluzionario che deve perseguitare tutti i nemici della rivoluzione. Infatti è un tribunale rivoluzionario che farà tantissime vittime. I girondini si ribellano e infatti abbiamo la famosa rivolta federalista, però il 2 giugno i giacobini fanno arrestare 29 deputati girondini e due ministri, sempre girondini, li fanno arrestare e li deferiscono al tribunale rivoluzionario. Infatti poi nell'autunno di quell'anno questi deputati e i due ministri verranno decapitati. e quindi praticamente a questo punto i girondini i girondini ormai sono stati eliminati con un colpo di mano dei giacobini i quali prendono in mano la situazione e il 2 giugno del 1793 inizia il periodo chiamato il terrore va bene, periodo in cui i giacobini governano diciamo facendo lavorare tantissimo il tribunale rivoluzionario che manderà a morte molti oppositori, molti nobili eccetera eccetera. Comunque il terrore lo affronteremo nella prossima puntata. per il momento abbiamo finito.